Il rinvenimento di un pennarello per scrivere frasi non troppo comprensibili su una balaustra collocata sulla scala di collegamento tra il pian terreno e il solaio avvalerebbe l'ipotesi che Andrea sia venuta qui per compiere un gesto estremo. Il pennarello repertato durante i sopralluoghi dei carabinieri del SIS, sezioni indagini investigative, sarebbe stato rinvenuto all'interno del casale, vicino alla scala e allo scheletro, ma soprattutto le frasi sarebbero state scritte proprio con quel pennarello. Frasi in italiano ma con errori, con parole sovrapposte le une alle altre. Impotesi questa che lascerebbe pensare che le scritte siano venute in situazioni critiche, in una fredda notte, in condizione di buio pesto e in un momento di grande paura. Resta il fatto che la ragazza sarebbe dovuta venire qui ovviamente da sola in piena notte al freddo, naturalmente con tanto buio e riuscire ad entrare da questa finestra sul retro, da questa piccola finestra sul retro in maniera ovviamente molto complicata. Se Andrea avesse fatto tutto da sola, dirigendosi in questo casolare prima dell'alba dopo aver litigato con il fidanzato, la posizione di Simone Gresti sarebbe alleggerita. Non più accusa di omicidio ma probabilmente mantenimento di quella di istigazione al suicidio. Ora, più che mai, la domanda ricorrente è sempre la stessa. Il corpo rinvenuto era già nel casolare di via Monte Adamo 26, quando pochi giorni dopo la scomparsa sarebbe stato ispezionato dai vigili del fuoco e dai due youtubers. Ipotesi difficilissima da provare, anche se il corpo sarebbe stato in una posizione tale da non essere visto. Per la consegna della relazione tecnica è comunque ancora molto presto, sono previsti infatti 60 giorni. Intanto, alle casolare aumentano costantemente le testimonianze di solidarietà con la gente che continua a portare fiori, candele e piccoli cuscini a forma di cuore. Il cartello con la scritta giustizia per Andrea si è leggermente abbassato ma chiunque passi qui per una preghiera o per dare un segnale d'affetto e d'amore si ferma qualche istante proprio per chiedere in silenzio giustizia e verità.